L'assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Dell'Inoci ha spiegato quanto è emerso dall'ultimo consiglio regionale, una giornata molto importante per la regione Puglia e per le altre regioni italiane che hanno discusso e approvato il bilancio di previsione 2022, un documento contabile e fondamentale per l'allocazione delle risorse pubbliche, quindi per la definizione degli obiettivi da perseguire e della strada che si vuole percorrere. Per quanto riguarda la Puglia, tra i numerosi provvedimenti, ci sono due articoli di legge innovativi su cui la regione ha lavorato, approvati in consiglio relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In attesa del piano energetico regionale, infatti, la regione Puglia intende prendere posizione su due aspetti finalizzati ad accelerare il processo di transizione energetica. La prima proposta normativa ha lo scopo di sostenere il repowering senza il bisogno di presentare via, vale a dire sostenere l'esecuzione di interventi pubblici e privati di produzione di energia da fonte rinnovabile che attengono le modifiche funzionali di ammodernamento degli impianti esistenti. La seconda proposta normativa ha disciplina di interventi su impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica e nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale. Un risultato importante per la Puglia, ha commentato Delinoci, che si accinge ad affrontare e vincere la sfida della transizione energetica.